Dal 3 ottobre Poste Italiane ha riattivato la piattaforma per l'acquisto di crediti d'imposta relativi al bonus e ad altri bonus edilizi. Poste valuta l'acquisto di crediti unicamente da soggetti persone fisiche che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri le cosiddette prime cessioni. Chi vuole vendere i propri crediti a Poste Italiane dovrà essere titolare di un conto corrente banco posta. Poste valuterà di acquistare solo le quote annuali fruibili a partire dal 2024 in relazione a crediti maturati con spese sostenute nel 2023 oppure a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti. L'importo massimo cedibile a Poste è pari a 50.000 euro per cliente. Per maggiori informazioni vi consiglio di leggere i dettagli nel sito dei Posti Italiane al link che vi lascio in descrizione.